... Incidente questa sera poco dopo le 19 a Dozegna sulla strada provinciale 53 per Caluso. Un ventino venne di Montanaro e alla guida di un arenoclio che ha improvvisamente impattato contro il rimorchio di un trattore che stava viaggiando senza luci. L'impatto è stato violento e il giovane si è reso conto soltanto in quel momento. Il conducente del trattore non si è fermato e ha perseguito come nulla fosse accaduto. Fortunatamente il giovane è rimasto illeso, distrutta invece l'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giorgio Canavese per i rilievi del caso. Grazie per la visione!